Buongiornissimo, speriamo che sia davvero un buongiornissimo, perché oggi gioca la Juventus e quindi vediamo un attimino quale sarà il mood a fine serata. Può essere ottimo come terrificante, come neutro, a seconda di quello che sarà l'epilogo finale di questa partita. Quindi cerchiamo di capire insieme quello che potrà essere, a partire magari dalle probabili formazioni, quindi cercando di capire quelli che saranno gli 11 uomini scelti da Massimiliano Allegri per iniziare questa partita con il Friburgo. Tra l'altro prima partita in assoluto tra Juventus e Friburgo, non abbiamo precedenti tra queste due squadre, quindi sarà interessante iniziare a mettere una sorta di primo mattoncino anche per il futuro. Sono anche molto curioso di vedere l'approccio che avrà la Juventus contro una squadra della Bundesliga, che è un campionato che secondo me è molto molto intenso, un campionato tosto, decisamente tosto, che dovremmo cercare di arginare con le armi a nostra disposizione. Ma andiamo a vedere un attimino quelle che potrebbero essere le scelte di Massimiliano Allegri, perché sono state provate due formazioni, in realtà, o comunque ci sono due ipotesi di formazioni, e c'è anche un ballottaggio. Come potete vedere in questo momento vi ho messo la difesa con due brasiliani e un italiano, perché non c'è Alexandro, bensì Bonucci. Ieri è stato provato a tre titolari, perché Alexandro anche ieri Allegri ha detto non sappiamo se recupererà, oggi avrà la possibilità di fare un provino, avrà la possibilità di decidere se Alexandro è recuperato oppure no. Ha detto ieri Allegri il 99% convocato, ma non significa che sia in grado di partire titolare. Quindi Czesne in porta, Danilo sul centro-sinistra in caso di titolarità di Bonucci, che va a prendere il centro della difesa, e con Bremer che si sposta a destra, come abbiamo sempre visto in stagione con la difesa a tre e Bonucci titolare. Kostic sulla sinistra, giocatore che sarà titolare, anche ieri ha parlato in conferenza stampa insieme ad Allegri, giocatore che secondo me ha capito davvero il senso di appartenenza della Juventus in questi pochi mesi di bianco-nero. Quadrado sulla destra, anche perché non c'è possibilità di alternativa, dato che De Sciglio non sarà convocato neppure oggi. Locatelli in mediana, mi viene sempre a dire in cabina di regia, però forse è più appropriato il termine di mediana, perché Locatelli quest'anno sta veramente facendo una stagione da mediano, una stagione che in fase di non possesso è da premiare assolutamente, in fase di costruzione ha dei limiti evidenti, non lo stesso Locatelli, ma la stagione che sta facendo Locatelli, perché gli viene richiesto un compito differente rispetto a quello del regista. Rabiot e Fagioli, le mezze ali e con Di Maria annunciato titolare da Allegri a supporto di Dujan Vlaovic, che sarebbe in questo momento in vantaggio su Moise Ken, che comunque è squalificato e non dovrebbe giocare le prossime due partite di campionato. Quindi Ken andrebbe a trovare terreno fertile proprio in Europa League, anche se in questo momento la preferenza Allegri sembra orientata verso Dujan Vlaovic, che ha bisogno di tornare al gol e in questo caso secondo me è giusto far giocare Vlaovic, anche perché non vorrei che venisse eletta da Ken come una sorta di premio, il fatto di essere stato espulso dopo 40 secondi con la Roma, quindi poteva essere assolutamente un giocatore da ricambio nelle gerarchie, la titolarità di Moise Ken magari non in questa partita o in quella di ritorno, però secondo me nella successiva, quella dopo, immediata, rispetto all'espulsione è giusto fargli capire che non parte titolare anche per questo e quindi salterà la partita ricampionato e salterà buona parte nella partita d'Europa League. Perché dicevo che c'è un'altra possibilità? Ovviamente la difesa cambia a seconda della titolarità o meno di Alexandro, della disponibilità o meno di Alexandro, però c'è anche l'ipotesi legata al tridente e quindi qua ve l'ho messa con i brasiliani, Scesni, Sandro, Bremer e Danilo, fate conto che se c'è Bonucci c'è lo spostamento di Danilo e di Bremer, Costice, Quadrado, Rabiot e Locatelli, quindi panchina per fagioli ma titolarità per Chiesa che andrebbe a prendere l'esterno sinistro del tridente con Di Maria che andrebbe sul lato destro e Vlaovic che andrebbe di punta. Questa formazione perché me l'aspetto? Perché io mi aspetto il tridente, io credo che sarà tridente. Perché già l'andata con il Nant, Allegri aveva buttato nella mischia il tridente dal primo minuto e anche ieri Allegri ha chiesto un approccio propositivo alla squadra e ha chiesto di cercare di chiudere la partita già nella fase di andata, quindi già in casa nostra, anche perché la Juventus è una squadra che ha più difficoltà in trasferta, è una squadra che abbiamo visto segna meno in trasferta e subisce di più e quindi probabilmente l'intenzione è quella di chiudere i giochi, già adesso comunque mettere una serie ipoteca per il passaggio del turno. Quindi io mi aspetto il tridente perché potrebbe essere assolutamente la volontà di fare la partita grossa già in casa, già nella parte di andata. Però attenzione che ci potrebbero essere anche degli altri motivazioni dietro e quindi cerchiamo un attimino di fare il punto, la situazione per quanto riguarda il Friburgo. Quindi voglio insieme a voi andare a vedere quella che è la classifica di Bundesliga con il Bayern Monaco primo a 49 punti, insieme al Borussia Dortmund a 49 punti e poi c'è l'Union Berlin terzo a 44 punti e l'Ipsi e il Friburgo a pari merito con 42 con l'Eintracht 39. L'Eintracht che tra l'altro è una squadra che sta giocando in Champions questa stagione, la squadra nella quale giocava Kostic che l'Europa League l'ha già giocata e vinta, quindi una squadra importante, il Friburgo è davanti, che significa che sicuramente non sono una squadra scarsa, è una squadra alla quale bisogna prestare attenzione. Ieri Allegri parlava di rispetto, io sono d'accordo, va rispettato il Friburgo ma va rispettata anche la storia della Juventus e la Juventus non può permettersi di andare ad aggiungere un'altra delusione, coccente come quella degli ultimi anni, contro una squadra che sulla carta è sì problematica ma dovrebbe essere una squadra abbordabilissima per il livello della Juventus, quindi prestare attenzione, dare rispetto assolutamente senza mai dimenticarci che siamo la Juventus e dobbiamo cercare di andare avanti in una competizione nella quale nemmeno dovevamo giocare, ci siamo finiti perché nella prima parte della stagione non abbiamo fatto il nostro dovere, questo è sempre bene secondo me ricordarselo. E poi andrei a vedere un attimo il Friburgo perché questa è l'ultima formazione titolare del Friburgo nella partita finita 0-0 contro il Borussia Munches-Glabac, tra l'altro il Borussia aveva anche uno in meno c'era stata un'espulsione, hanno giocato con il 3-5-2, non è proprio il modulo di riferimento perché sono una squadra che cambia spesso e volentieri dal 3-5-2 al 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia, se guardiamo i capocannonieri in Bundesliga Vincenzo Grifo giocatore nazionale italiana è il capocannoniere del Friburgo con 12 gol, al secondo posto Gregorisk con 8 gol e nell'ultima partita non ha giocato. Se aggiungiamo che Grifo solitamente gioca esterno-sinistro nel 4-2-3-1 e non mezzala come viene inserito all'interno in grafica anche se è stato etichettato come trequartista all'interno di questa partita quindi magari ha giocato qualche metro più avanti, comunque Grifo è un giocatore che parte dall'esterno e attenzione che Grifo oltre ad aver segnato 12 gol in Bundesliga ha fornito pure 4 assist quindi Gregorisk e Grifo sono i due giocatori di riferimento anche perché il terzo capocannoniere all'interno del campionato è Ginter insieme a Doller che è praticamente il centravanti di riserva alle spalle di Gregorisk quindi attenzione che non è proprio così, attenzione a prendere questo 0-0 come riferimento perché non è esattamente questa cosa qui quindi cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio, guardiamo in generale quali sono i numeri dei giocatori del Friburgo, abbiamo Grifo con 14 gol, Gregorisk con 12 e poi Ginter, Dohan, Kubler, Holler e tutti gli altri giocatori che arrivano dopo quindi due pericoli principali in assoluto sono quei due lì, il 32 e il 38, l'ala sinistra e la punta centrale, sono i due giocatori di riferimento, sono giocatori in piena età calcistica perché sono al loro top, sono un 28enne un 29enne quindi nel momento più alto della loro carriera dove poi inizierà una piccola fase di declino nei prossimi anni ma in questo momento qui loro sono concentrati tra l'altro Grifo nel miglior momento in carriera per gol segnati e asset forniti quindi bisognerà sicuramente prestare attenzione a un giocatore che poi avrà anche una volontà in più di dimostrare il suo valore, vieni in Italia a giocare all'Allianz Stadium contro una squadra italiana quindi vorrai cercare di metterti in mostra, bisognerà prestare particolare attenzione a Vincenzo Grifo che se partirà dalla sinistra se la vedrà con Juan Quadrado su quella fascia. Andiamo a vedere un attimino quello che secondo me è uno dei motivi principali per andare a insistere sul tridente e cioè il bilancio della Bundesliga 2022-2023, sono dati molto interessanti che vanno un po' a fare il calco con quelli della Juventus perché in casa hanno collezionato 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, in trasferta 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, il che significa che in casa hanno un rendimento, fuori casa ne hanno un altro. 2.18 di media punti in casa, 1.5 di media punti fuori casa. Crollata definitivamente ma il dato più incredibile è quello relativo alle reti. 19 gol segnati in casa e 9 gol subiti in casa contro 16 gol segnati in casa e 23 subiti in trasferta. significa che quando escono dalle mura amiche la loro difesa si sgretola completamente, fanno molta più fatica a mantenere la porta inviolata e a portare a casa il risultato. Cosa significa che la Juventus questa sera avrà la possibilità veramente di fare il colpaccio perché poi in casa magari sono una squadra più tranquilla, in 11 partite hanno subito soltanto 9 gol quindi è anche difficile andare a scardinare la loro difesa in casa. Questa sera è la partita decisiva per il passaggio del turno perché poi si complica, si complica nella partita di ritorno in Germania. Questa sera bisognerà fare una partita in cui non bisognerà accontentarsi. Un po' il titolo del video di ieri sera della conferenza stampa di Allegri che dicevo vincere sì ma con almeno due gol di scarto perché è un attimo andare a complicare la qualificazione perché in casa tiriamo il freno a mano, cerchiamo di giocarci il jolly in trasferta e poi può esserci l'episodio, la serata storta, l'arbitro, il gol che non entra di un millimetro come quello di Chiesa con il Nant, può esserci qualsiasi cosa. Cerchiamo di non complicarci la vita e cerchiamo di tenere a mente che loro in casa sono una squadra rispettabile, fuori casa sono una squadra che si trasforma e che subisce decisamente di più. Quindi questa deve essere la partita in cui iniziamo a mettere tutto il nostro arsenale offensivo all'insegna della partita. E poi davvero prestare attenzione a Grifo che sta facendo una stagione sicuramente sopra i suoi standard, tipicamente gioca appunto come ala sinistra però gli è capitato anche di giocare per vie centrali, da ala sinistra 13 gol e 5 assist, da tre quartista un gol e due assist, ha giocato solamente tre partite quindi un giocatore che preferisce partire largo, dobbiamo assolutamente rispettare questo giocatore che forse negli anni abbiamo un po' troppo snobbato all'interno della nostra Serie A ma che si sta rivelando un giocatore importante in un campionato che sicuramente sta emergendo e sta diventando tra i top al mondo. Quindi questo è, ragazzi noi ci vediamo ovviamente questa sera per tutte le post partita, live reaction, pagelle domani, live reaction editata domani mattina, quindi tutto il programma solito delle partite, ci vediamo su Twitch e poi ci vediamo su Youtube per il post partita. Un abbraccio e ricordatevi, rispettiamolo, non sottovalutiamolo, ma siamo la Juventus. Grazie.